Conosce dalla radio, cioè, tipo le Chris & Chris, chi cazzo le ascolta le Chris & Chris? Ma non è vero! Sempre ha avuto manifesti e tutto, ormai voglio dire... Sì, ma tu sei figa Marco! No, quindi tagliate al cazzo! Ascolta, guarda, oggi credo che Paolo Noyes sia più affascinante, nel senso che ormai hanno una certa età. Se proprio bisogna levarsi i sassi dalle tasche... E non dal naso! E non dal naso! Io vorrei dire alla redazione web che non è bello andare su il sito di 105, Cliccare lo zio di 105, il programma di Marco Mazzoli e gli altri! Cioè, gli altri... Fanno venire! Fanno venire! Ma perché? Ah, ho detto oggi, si sta muoce, ho detto! No, capito? Adesso no! No, Paolo, fammi un minuto e faccia meno avanti! Ma no, devi fare la diretta! Eh... Davide, te la prendi la sedia di tifo? Non fammi io, 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 fammi io! Ma fate adesso, Pa, Pippo, lo fate adesso! Ma non è che entra di prepotenza! Ma non è che si deve fermare! Grazie! Ma mamma c'è i capelli finti! Tutti veri! Grazie! Ciao! 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 Ciao!